Domani, primo maggio, è la festa dei lavoratori, ma per le marche sono preoccupanti i dati sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel primo trimestre dell'anno, considerando l'incidenza degli infortuni mortali per ogni milione di occupati, Ancona è al nono posto nella graduatoria nazionale. Vediamo il servizio. Le marche sono al quarto posto tra le cinque regioni in zona rossa per le morti sul lavoro nella mappatura dell'emergenza dell'osservatorio sulla sicurezza di una società di ingegneria veneta che ha elaborato i dati INAIL del primo trimestre del 2023 e il rischio per la vita regione per regione. Sul podio dell'insicurezza anche Valle d'Aosta, Umbria, Abruzzo e Piemonte. L'elaborazione dei casi di morte sul lavoro divisi 314 capoluoghi di provincia sull'incidenza media nazionale stilata sui casi di infortuni mortali per ogni milione di occupati, vede Ancona al nono posto nella graduatoria nazionale, Pesaro Urbino al 14esimo e Ascoli Piceno al 20esimo. Molto distanti nella classifica, Fermo e Macerata, entrambe al 67esimo posto, ultimo scalino della graduatoria che rileva l'assenza di incidenti mortali nel primo trimestre 2023. Le marche sempre in testa all'elaborazione annuale divisa per province dei dati INAIL 2022. Ascoli Piceno al quarto posto, Macerata all'undicesimo e Fermo al 17esimo. A metà classifica nazionale Ancona con il 47esimo posto e Pesaro Urbino con il 54esimo. Dati negativi anche nel confronto regionale dell'incidenza dei morti sul lavoro. Le marche dal 12esimo posto del 2021 salgono al settimo nel primo semestre 2022.